Una cosa che a noi spesso chiedono nella Valtaro e nella Valceno è di chiedere proprio a lei se sarà fatto qualcosa per il punto nascite di Borgotaro. Ma guardi, il punto è questo, quel punto nascite era sceso addirittura sotto i 100 parti all'anno, cioè la gran parte delle mamme di questo territorio da sola, senza che nessuno le obbligasse, preferiva andare a partorire in luoghi che sono di una straordinaria qualità. Nessuno di noi ha in mente di chiudere o aprire qualcosa che non attenga la sicurezza, perché di questo stiamo parlando, cioè è bene ricapitolare. Nel 2011 il governo Berlusconi mise per la prima volta una soglia di 500 parti, ricependo peraltro indicative, credo, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sotto la quale non era garantita, per mancanza di capacità di poter fare, la sicurezza e la tutela della salute delle mamme e dei nascituri. Dopodiché c'è una commissione specifica presso il Ministero della Salute, è fatta ovviamente di persone competenti, di medici, di professionisti, che deve valutare la richiesta di deroghe eventuali. In questi anni, in tutte le regioni italiane, alcuni punti nascita che avevano meno di 500 parti, è stata concessa una deroga e hanno potuto tenere aperto. Ad altre invece non è stata concessa, perché si presumeva che non venisse garantita, ripeto, la tutela della salute nel servizio. Noi abbiamo fatto richiesto d'eroga per sei punti nascita, tre sono stati lasciati aperti, erano vicino alla soglia di 500 e tre, compreso quello che lei ha indicato, aveva numeri troppo bassi. Dopodiché io ho incontrato la Ministra della Salute, Giulia Grillo, poche settimane fa e ho proposto che dentro al patto per la salute, che tra regioni e governo si sta discutendo e dovrebbe essere entro il 31 marzo, io penso che il governo non farà in tempo, diciamo anche aprile o maggio, discutere una serie di cose che riguardano l'intera qualità della sanità in Emilia-Romagna, ma soprattutto nel paese. Io ho chiesto alla Ministra di andare a valutare, di fare un bilancio di questi anni, perché ripeto, non è accaduto solo qui, è accaduto anche in altre regioni, in tutte le regioni. Quando sento parlare in Veneto non li hanno chiusi, in realtà ci sono alcuni punti nasciti in Veneto che stanno aperti solo alcune ore al giorno, non è che sono aperti 24 ore al giorno, ma in generale noi siamo disponibili a rivedere col Ministero se i parametri verranno cambiati, noi non abbiamo nessuna preclusione. L'importante è che chi deve garantire che siano servizi che non mettono a rischio la salute e la vita delle persone o dei bambini, noi non abbiamo problemi anche a ritornare indietro. Grazie per la visione!